Fede, ho preparato la mia casetta, ti piace? Perché, Steph? Perché non ti piace, Fede? Perché l'hai fatta rosa! Non devi fare una casa rosa! Perché tutto rosa? Perché hai piantato due alberi giganti, poi? Allora, i ciliegi sono bellissimi perché amo il Giappone e quindi va bene. Per il resto, io volevo un blocco diverso dal legno che avevo. Sono andato in giro ovunque, ho trovato soltanto quello rosa, mi ci sono dovuto arrangiare, Fede. Non sono felicissimo neanche io. Se ne avvergogna, saremo la vergogna di tutta la serie, Steph. Non puoi avere una casa rosa, ok? Al massimo io, tu no. Allora, Fede, vai in giro per il mondo, cercami del legno blu e mi faccio la casa blu. Fino ad allora devo tenermela rosa, ok? E ragazzi, come va? Io sono Fede, Niki. E sono Steph, che sei giocatore a Minecraft. E benvenuti nel secondo episodio della Pixelmon in cui Steph ha giocato senza di me e si è fatto la casa rosa. Questa è la mia intro, Steph. Allora, ho giocato senza di te? Sì, è vero. La casa rosa, sì, è vero. Io vado ad abitare con qualcun altro, Steph. Tipo in quella torre bellissima qui a fianco. Infatti hanno tutti qualcosa di molto bello, dimmi, Fede. Steph, scusa un attimo, tu mi hai fatto questa casa? Poi io mi giro alla mia sinistra e vedo una torre. Una fortezza, perché quello, ok, che non si vede perché c'è una muraglia enorme, ma penso che sia una fortezza. E tu mi ti... Ti presenti con questa casa. Bisogna accontentarsi, Fede. Però la mia casa sembra banale, ma non lo è. Prima di tutto la forma devi ammettere che comunque è carina. Allora, contando il tuo solito, hai anche fatto meglio. Ecco, grazie, grazie, grazie. E poi venga dentro casa, perché ci sono diverse sorprese. Ho ne ero dato parecchio senza di lei, quindi Fede che... Si posta da solo l'autogianto, quindi ho un po' di problemi, Steph. Allora, come puoi vedere qua abbiamo tre fornaci che andranno ad aumentare ancora di più, perché per le ghicocche, per fare le pokeball, ce ne servono tante. Qui abbiamo la cesta con i vari materiali della Pixelmon. Fammi vedere. Qui abbiamo un po' di ghicocche che ho farmato. Ok. Mentre qui abbiamo materiali per costruzione che te ne donerò pari a chi per costruire la tua casa. Ah, bello. Come puoi vedere. Le foglie rosa sono molto belle. Ci tengo infatti un attimo a fartene vedere una. Guarda che bello. Vabbè, che belle. Voglio una casa di foglie. Quelle le puoi sfruttare. Ok. In ogni caso tu dirai, ok, Steph, non è male. Poi qui sopra, se vedi, c'è il terrazzino con pure tutto quest'albero che entra dentro il terrazzo. Devo ancora decidere cosa fare qui sopra. Ok. Però c'è una cosa nascosta. Sì, ho visto delle scalette, infatti. L'ho già intraviste, Steph. E poi aspetta che lo levo, Steph. Cosa ti aspetti da qui sotto, Fere? Ma no, l'hai nascosta sottoterra. Ma poverine. Guarda un po'. Ma sei sicuro che crescono al buio, Steph? E beh, Fere, queste sono tutte cresciute. Ah, però potrei... Allora, avresti dovuto farlo leggermente più alto, perché sono proprio giusti. Infatti stavo pensando di scavare uno in più per rendere tutto un pochettino più comodo. Ci stavo già pensando. Però diciamo che così è una farm segreta e quindi mi ispirava a questo concetto. Ti piace? No, ci sta. Ci sta. La segreta mi piace. Ok. Ok, vedi che non è così banale la casa di Steph, signorina? No, allora, è carina nelle idee, ma un po' bruttina nell'esecuzione. Ma non è vero. Perché rosa, Steph, no. Cioè, per me, perché io sono piena di materiali, non so dove mettermeli. Guarda, ho tutte belle ghiocche. No, effettivamente ho pensato solo a me, perché i consulini hanno votato il sondaggio, hanno detto che abbiamo fatto due case diverse. Lo so, e io ancora ovviamente non l'ho fatta. Io ho la casa. Perché tu hai giocato senza di me, Steph. E tu, sì, sei povera in giro per strada. Però abbinatevi i capelli, guardami. No, Fere. No, sono due tonalità diverse. In ogni caso, allora, Fere, 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 tutti stanno catturando duemila Pokémon, siamo gli unici che ne hanno soltanto uno, siamo gli unici dove tu non hai ancora la casa, quindi siamo messi davvero male in tutti i sensi. Dai, non tutti hanno la casa pronta, però, eh. Quindi, questo oggi dobbiamo recuperare un po'. Ok. Ok. La prima cosa che andiamo a fare è sfruttare tutte le ghicocche che ho farmato per creare delle Poké Ball. Dopodiché, andiamo a catturare entrambi il nostro primo Pokémon. Perfetto. Ok. Possibilmente scegliene uno volante, perché così iniziamo ad andare in giro per il mondo volando. E almeno siamo un po' più comodi. Cercherò anche io sicuramente un po' come volante, per oggi. Allora, io voglio cercare di ricordarmi come si fa. Ok. Ho preparato 32 di ferro che dovrebbe essere parecchio. Se ricordo bene, mettendo il ferro così, possiamo creare esattamente gli Iron Disk che ci serviranno appunto a fare le Poké Ball. Ok. Ne facciamo una decina, cinque testa. Sì, sì. Vero? Perché non voglio averne troppe ferro e non voglio neanche avere troppe Poké Ball per questo episodio. Dobbiamo essere limitati in modo da concentrarci per catturare. Bene, sto cucinando le mie ghicocche. Allora sto cucinando sia quelle nere che quelle gialle. Tu scendi di sotto e vai a prendermi altre ghicocche gialle e nere, perché altrimenti dieci Ultra Ball non ci escono, quindi cinque testa. Quindi vai, prendi tutte quelle che trovi, soltanto le gialle e le nere che gli altri non ci servono in questo momento. Prendile tutte e nel mentre io cucino le mie. Allora, ne ho già fatto due di queste e due di queste, quindi possiamo creare la nostra prima Ultra Ball. Vediamo un pochettino. Se ricordo bene era nera-gialla-nera, vero Ferre? Sì, però c'è un problema. Dimmi. Non si possono raccogliere così attaccate. Lo so, mi sono reso conto già del mio errore. Eh, per quello le dovevi fare un po' più alte. Sì, Ferre, non c'è bisogno di sottolineare sempre i petiti. Eh, non è sottolineare, non sto riuscendo a prenderle. In su, certo, certo, Ferre, certo, in su. Ah, le nere almeno sono messe meglio. In su, insultami. Ho messo pure uno specchio a caso. Dannazione. Stiamo facendo un lavoro incredibile. Allora, qui stiamo cucinando le ghi coche gialle. E certo. Qui stiamo cucinando la stone. Qui stiamo cucinando le black. E dopodiché, adesso dobbiamo andare a mettere questo qua, Ferre. E guardami. Guarda che bravo che sono. Ho sbagliato. Allora, come... Così? Sta funzionando? Sì, penso di sì, penso di sì. Ascolta, Ferre, tieni il martello. Fallo tu perché qua ci vuole tantissimo. Io ne ho entrato a creare la prima Pokéball. Perché altrimenti qua, tra dieci ore, non abbiamo ancora creato le Pokéball. E guarda come sono brava, Stef. Ho già fatto, è differenza tua. E sì. Ci siamo. Stef, ma bisogna lavorare anche il disco, a parte di sopra. Bene, più lavoro per te, non sei contenta? Ma io non volevo fare il fabbro. Io volevo solo catturare tantissimi Pokémon, Stef. Tieni. Ridammelo, ridammelo. Adesso finalmente riusciremo a crearla. Allora, è un processo abbastanza lungo. Per fortuna si potrà rendere tutto molto più automatico. Però, fino ad allora, Stef e Ferre, dovranno lavorare sodo. Ok, Ferre, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo la nostra prima Ultra Ball. A questo punto... Che bello! Allora, tieni. Ok. Devi lavorarmi questi otto. Ma dai, ti prego. Stef, dammi le Pokéball pronte e basta. No, Ferre, è un lavoro di squadra. È un lavoro di squadra. Io nel mentre creo... Ascolta, io ho la Pokéball che mi ha regalato Mark. E la Quick Ball che poi mi ha regalato Eren. Quindi io lascio così. Ti rispondo così. Tieni anche questi. Mettiti a dare colpi di martello. E lavora. Che noioso che sei. Fazza, su, facci vedere come muovi col martello. Dai da brava. Brava. Dai, Consolini. Fatele un applauso. È bravissima. È la più brava di Adriano. Non sto ridendo, no, non sto ridendo. Ho una confessione da farti. Dimmi. Mentre tu stai dando i colpi di martello, sto andando in giro a vedere se trovo il mio primo Pokémon. No, dai, non ci provare. Ferre, sto... Io non te le do le Pokéball. No. Ma le tengo a te per me. Ferre. No, non te le do. Le ho farmate io. Non me ne frega nulla. Arbok, ma cosa mi fa... Mi è andato addosso un Arbok. Mi dispiace, Stef. Addio, Tottenham. Questa è la giusta punizione. Ti ho voluto bene. Ah, sono riuscito a scappare. Guarda. No, non ti guardo, Stef. Guardala, che carino che è. Potrebbe essere mio. Guarda, lo prendo uguale al tuo. Guarda, sarà la giusta punizione. Sì. Dobbiamo avercelo diverso, Ferre. No, non ce l'abbiamo diverso. Perché tu stai facendo tutto senza di me. Quindi adesso me lo prendo uguale. Ti copio. Mi ha fatto malissimo. Te lo meriti. Ti ha ucciso. No. Mi è andata male? Ho fatto un critico. Ma no. Sterling livello... Che livello era? Era al 12. Era carino. Però il mio Tottenham... E l'istrutto! Sì, perché mi stava facendo molto male. Quindi ho dovuto usare Watergun due volte di fila. E purtroppo Sterling non c'è più. Era carino. Io mi ero già affezionato a quel Sterling, devo essere sincero. Però c'è un altro qua. Livello 5. Beh, il livello 5 è più semplice. Ci provo. Non proprio. Forse gli fai ancora più male, Stef. Sì, ma gli faccio uno scratch. Teoricamente non muore. Spero che non sia lui da ammazzarmi. Infatti, Fede, attenzione. È basso di vita. Io ci provo. Ho una sola Ultra Ball. Ci provo. Ok, vai. Vi prego. Vi prego. Datemelo. Datemelo. C'hai fatta? Oh, bello, 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 bello. Io ho appena finito, Stef. Ho fatto anche il livello 12. Ok, Fede, arrivo. Vieni a prenderti tutte le tue cose. Ok, arrivo anche a presentarti il mio nuovo amico, Fede. Adesso le butto giù. No. Dal dirupo. Fede, servono anche a te. Non rompere le scatole. Fatti, solo per quello me le sto buttando. Ti fai la squadra tutta rosa, Fede? Sarebbe geniale. Non posso. Guarda, guarda che bello. Ma te, Big, non è rosa. La abbandoni? No, pocherino. È troppo carino per essere abbandonato. Guarda qua, che bella notizia che ti do. Te ne sei invitata 5, io me ne tengo 4. Ok. Hai 5 Ultra Ball per te. Allora, aspetta un attimo che finisco di depositare le cose che ho preparato. Ti presento. Adesso sai che faccio? Guarda come salta perché è felice comunque. Chiamo il mio tepi che te lo uccido. No. Vai da brava. Ciao, bellissimo. Lo sai che tu ti evolverai tantissimo e mi permetterai di volare nel mondo? Sì, sì, proprio tu mi permetterai di volare in giro per tutta la Pixelmon. Sarai totalmente fondamentale e sei davvero carino. Lo stai prendendo, Fede? Ci sto provando. Livello 6? Ci sto provando, sì. Un livello in più del mio. Ma qua c'è pure un... Oh, salve. C'è un PJ qua. Ciao, bellissimo. Ce l'ho fatta? Eh, penso di sì. Aspetta, sto aspettando. Prezzo? Sì, sì. Mi ha copiato il Pokémon. Fede, mi ha copiato il Pokémon. In realtà avevamo già parlato prima di fare il video ed entrambi volevamo lui. Sì, esatto. È andata... È più carino degli altri, non c'è niente da fare. Eh, ma qui si trova facilmente in questa zona. Come vedete è molto semplice. Si trovano di livello basso piuttosto che trovarne altri e dai, ci sta, ci sta. Vieni immediatamente qua. Guarda la minimappa e vieni qui, Fede. Eh, ma non ti... Ah, ecco, ora ti vedo, ti vedo, ti vedo. Corri. Vedi? Guarda se ti piace. Stava cercando un po' di scappare perché ha capito. Però non è troppo bellino. Vai, vai. Ve l'è mancato? Aspetta, sì, perché è difficile. Sta scappando. No, scappa come disperato. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Cioè, guardate quanto è bellino. Mime Junior, giusto? Sì, è lui. Ok, fight. Vediamo se ce la facciamo. Fagli un po' di danno. Un altro attacco, secondo me, glielo puoi dare. Sì. E dopodiché cerca di catturarlo. Ok. Forza, Fede. Forza, Fede, che ce la fai. Ci provo. Forza che ti prendi il Pokémon più carino dell'anno. Hai tirato l'ultra ball? Sì. Ok. Sto aspettando. Ok. Sto vedendo come va. Ok. Speriamo bene, Steph. L'hai preso. L'hai preso, Fede. Io farò la squadra dei Pokémon carini. Ma quello era ovvio, eh. Per ora sono tutti maschi, eh. Avrei voluto qualche femmina, però sono tutti maschi. È capitante di maschi e destino, Fede. Faccelo vedere, su, su. Ma Mime Junior è straverte. Pronto, Steph. Prontissimo. Guarda che non puoi resistere a cotanta bellezza, Steph. Vado. Ok. È troppo bellino, eh. Fede, ci sfidiamo? No, non ti voglio sfidare, Steph. Sfidiamoci, dai. Dai, sì. Allora, non so come andrà, eh. Perché siamo molto sbilanciati a livello di squadra. Non è vero, non è vero. Vediamo un pochettino. Eh, che bello questa schermata. Vai, accetta. Accetta, bellissimo. Ok, tu hai tre Pokémon, io ne ho due, però il mio è d'acqua contro uno di fuoco, quindi ho questo vantaggio qua. Vediamo un po' come andrà. Ok, ok. Dai, Steph. Ti ho dato una bella botta e diciamocelo. Tu considera però che il mio secondo Pokémon è Sterling livello 5. Quindi, diciamo che è come se ne avessi solo uno. Eh, l'ho capito, ma è l'unico mio Pokémon forte, questo. Beh, no, hai un 9, tu, eh. Hai un 9, Fede. Vediamo, vediamo un po' che abilità ha lui. Non sa neanche che abilità ha. No, sono normali e psichiche, ovviamente. E non so bene, però, che cosa fanno. Ti confondo, Steph. Mi sembra una buona idea confonderti. Mentre tu mi... Bella, bella. Sei forte, Maim Junior. No, mi è pure confuso. Eh sì, te l'ho detto che ti avrei confuso, Steph. Mi sa che perdo. Mi sa che perdo. Allora, adesso facciamo... Ti devo colpire. Dimmi che non mi autocolpisco. Who's made it? Ok. Uh, te l'ho data la sberla. Te l'ho data la sberla, Fede. Sì, sì, sì. Te l'ho data. Sì, sì, sì. Ok. Sono morto. Vabbè, ci sta, dai. Me la sto giocando bene. Vai. Ok, vai Sterling. Ce la puoi fare. Allora, devo fare un quick attack per cercare di stendertelo. Ok, ha funzionato. E mi manca solo l'ultimo. Fede, ma è bellissimo. Che cosa? Mi hai fatto salire Sterling a livello 8. Ma com'è? Non è giusto. Te lo giuro. Ma adesso poi mi sali di livello che il mio è di livello 6. Sali dopo. Sali dopo che è infinito. Adesso potrei vincere. Allora, vediamo. Ok, adesso mi basta usare un quick attack. Ti prego. Ok. Non è giusto, Steph. Ok. Quick attack, teoricamente attacco prima perché sono di livello più alto. E hai vinto tu. Ho vinto io. Basta, me ne vado. Ho vinto io. Io te l'avevo detto che era molto sbilanciata come squadra perché tu hai proprio l'acqua contro il fuoco. Sì, però, allora, se non mi fosse salito Sterling avrei perso. No, certo. Perché avevo uno Sterling più basso del tuo. Ma scusa, deve salire di livello quando finisce, non nel mentre. Non è giusto. È un Rapidash e un Ponita. No, è un Ponita alla fine. Ok. Allora, era enorme, quindi mi sembrava un Rapidash. Però guardandolo da vicino è un Ponita. È qua. Arrivo. Ok, io ci provo. È tutta una questione di fortuna. Guarda quanto è grande rispetto a quello piccolino che avevi visto. Lo voglio cavalcare. Andiamo. Andiamo. Guardalo. Ok, vado? Vai. Ho sbagliato. Vabbè. Allora, Pokéballs, Ultra Ball, la utilizzo subito. Vado a tirare direttamente l'Ultra Ball da sola. Vediamo se mi va bene e se l'Ultra Ball è abbastanza forte per farmelo. Dai. Ma come? Ma allora vado da un Pokémon di livello altissimo, gli tiro un Ultra Ball e va bene così, Steph? Non è giusto oggi, eh? Non è giusto. Sta andando tutto male, guarda. Ma cosa vuoi? Mi ritiro da questa serie. Non è che va male. Basta, basta, basta. Che vuoi? Lo vuoi vedere? No, non lo voglio vedere. Dai, dai, dai. Che lo vuoi vedere? Guarda, ce ne sono altri. Ma me lo prendo anche io. No, dai. Non puoi copiare. Pere, fermati immediatamente. Vado a correre con loro nelle pratterie. Gli hai già preso tre. Aspettate un attimo, ma se io faccio così e poi... Che stai facendo, Steph? Fere, è un po' buggato. Mi vedi? Girati. Hai capito? Scendi, Steph. Ciao, Feria, dopo. Scendi, ti prego, scendi. Vado in giro per le pratterie. No, non è una cosa bella. Scendi, è terribile. Beh, ragazzi, se non ci siete tutte, lasciateci un like. È la prima volta che vi ho detto il nostro video. Potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao e alla prossima. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti.